Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale Inqueltaleale Eccoci qui tornati su Overwatch Riprendiamo da dove ci siamo lasciati dopo un bel po' di tempo In realtà magari voi avete visto già nel frattempo qualche video che avevo già registrato Però io ci torno dopo un bel po' e quindi spero di non morire malamente Comunque rissa settimanale Cos'è l'esercito a conduzione singola? Siamo tutti soldati ora Non lo so proviamo la rissa settimanale Cioè praticamente giochiamo tutti con il soldato probabilmente Non ne ho la più pallida idea Evidentemente è stata aggiunta con l'ultimo aggiornamento che è stato rilasciato Perché si effettivamente mi ha scaricato una patch Vediamo vediamo Poi se ci rompiamo le bolse ci facciamo un'altra partita normale Facciamo una e una Non lo so Vediamo un pochino Devo come detto riprenderci un po' la mano Però questo Overwatch non mi dispiace affatto Nella... Tra i giochi multiplayer Che come detto io non è che... Non ci gioco tantissimo Anche per questioni di tempo Come sapete gioco molti titoli Quasi... Di ogni genere Quindi per forza di cose Non ho mai... Non mi sono mai dedicato in modo costante a titoli multiplayer E quindi... La pratica è quella che è... Ma non fa niente Noi ci mettevamo la sportiveggianza E un sacco di morti E andiamo a sta torre di Ligian Ehm... Tocca rivedere anche un po' i comandi Preparatevi ad attaccare Ehm... Sì vabbè Dettagliare va'è questo Visore tattico Scatto Rigenerazione bio Razio Ok Vediamo Dobbiamo attaccare Pronti? Pronti? Cioè pronti Ci proviamo Adesso siamo tutti soldati Sì Pronti a morire Piantatela a perdere tempo E state pronti Ma sì Dobbiamo Arrivare un po' brati Guarda Che sono l'anima Sì Non ce ne frega Dai Sette secondi Sette secondi Sette secondi Sette secondi 4 3 2 1 1 Ci si prova Ci si prova Ehm... Se non mi ricordava Le mappe naturalmente Non me le ricorderò mai Eccone Venite a rimettervi in sesto No mi rimetto in sesto qua Scusate Aspetta Sto conquistando l'obiettivo Convergente su di me Sì Convergo Convergo C'è qualcuno che può mettere La salute Eventualmente Dai cazzo Ok Allora Cazzo Eh vabbè che dovevamo Stavamo cercando Di recuperare la salute E poi dovevo vedere Destra e Ah proprio razzate In bocca Ci ha sparato Allora Proviamo a ributtarci Nel mischione Ehm Aspetta che sta arrivando Ho fatto la stronzata Ho fatto la stronzata L'avevo anche visto In anticipo Vacca Troia Eh Però ho lisciato Quei razzi Maledizione L'ho avuto Molta più precisione Di me Vabbè la precisione È anche qualcosa che Su cui dobbiamo Lavorare nel tempo Eh vabbè C'ho mare Aspetta che sono in tre Eh in tre Mi sembrava Troppo Accessibile Eh non lo so Ci hanno fregato La zona Quindi Merda Eh vabbè Che dobbiamo fa' Stavano da tutti i lati Più di questo Non si poteva fare Ehm Questa rissa giornaliera Non so se Porta Qualcosa in più Onestamente Come Cose da sbloccare Ad esempio Non ne ho la più pallida idea Beh non esageriamo Non facciamo Venite qui Necessità tattica C'è qualcuno Che mi può donare Un po' di salute Cazzo Cazzo Vabbè almeno Abbiamo fatto Se ci sono Di fila Perché Per come Ci stiamo lanciando A testa bassa Ci sta La guerra continua Dai ma qui Gente che Perde tempo A sparare i palloni Cazzo Capisco Prima della partita Occhio Guarda qui Eh adesso Se ci iniziano Generatore Biotta Eh vabbè Adesso se vengono Al punto di respawn È finita Sì perché Loro hanno più strade Per arrivare da noi Noi invece usciamo Da sto cazzo Di baracchino A meno che Non possiamo fare Il giro di qua Sto cazzo Faccio il giro di qua Lo so ci avrà visto Ma Mi ha sbatto il cazzo Eh Quanti cazzo siete Sono inarrestato Aspetta va A qualcuno Sembra la cure Eh a me Aspetta arrivo pure io Di prepotenza Ok Grande così Ok il primo round È andato Va bene Oh Sono stato Viene Non sono stato Viene È colpa mia Vorrei se potessero Anche queste cose Io te lo so Glizzo Questa 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 Pronti Pronti Non lo so Passo qua Ho sbagliato Me sa Cazzo Oh no Eh scusate Perché ma Così va bene Merda Non lo so Non lo so Convergete su di me Era da aspettarselo Aspetta Statevi lontano Ho una missione Da compiere Eh non so No cazzo Sto Fottuto corpo a corpo Del cazzo Lo devo disattivare Perché ogni volta Mi schiaccia Sto cazzo D'analogico Di merda Affanculo Eh lo più profondo Eh che cazzo Mi prende Aspetta di qua Occhio No mi butto Di prepotenza Perché sennò Qua Gli altri Non arrivano Sono tutti Improciati Là fuori Lo so Ce l'avevo di lato L'avevo anche visto Con la coda Nell'occhio Ancora qualche asso Nella pratica Sto cazzo Prendiamoci subito La zona Eh Figlio di troia Sta Un frociato Camperato Qua dietro Vabbè ci sta Ognuno sa La sua strategia Però Sti cazzo Non sono più Ragazzino Mi ha fatto da esca Ma abbiamo conquistato Attenzione Ce lo stanno A rifregare di nuovo Ne ho visto uno passare Controllo Faffanculo Aspetta Ah Christian Cerca di buttarmi Nel mischione Ma non è andato Ancora qualche asso Nella manica Questa è più tesa Questa è più tesa Siamo 50 52% noi 30 loro E Allora Aspetta Mi recupero No dovete Cazzo Vabbè dai Cerchiamo di tamponare Il loro arrivo Tanto l'avevamo Conquistata noi Quindi possiamo difendere In modo Abusivo Ok Cazzo Guarda quello Guarda quello Eh ce l'hanno fregato Ci si prova Ci si prova Allora dobbiamo assolutamente Riconquistare L'azgrande In questa zona contesa Saso ripresa Noi siamo all'86% Loro al 5% Eh lo so Ma cazzo Quando è così che ce ne hai due È sempre più difficile Scegliere E di solito vado Su quello che Ha meno salute Ci provo Magari non è sempre La scelta Migliore Puttana Lai va troia Guarda qua Stiamo tutti E vaffanculo Da qualcuno Servono pure Merda Eh ci hanno inculato Ma vaffanculo Siamo fatti fregare Da Da pirla Proprio Siamo fatti fregare Da pirla Potevamo benissimo Vincerla in tranquillità Eh vabbè La bella La bella Questo devo cercare Di disattivare Questo cazzo Di cosi Anche se Non so se è possibile Non so se è possibile 4 3 2 1 3 Vai Conquistando il doppio chino Eh ci siamo ammazzati Siamo ammazzati a vicenda o mi sono Ah no mi sono ammazzato da su Ci siamo Abbiamo fatto un attacco kamikaze Sì eravamo un po' troppi vicini all'avversario Ah ecco perché non gli iniziava a conquistare Escolto l'obiettivo Ancora non era sbloccato Noi adesso cerchiamo di difendere in un modo Puttana troia Vai vai veloce veloce Ributtaci in partita Ho ancora qualche asso nella manica Allora non facciamo come prima che ci eravamo trovati Una buona situazione e poi ci hanno fregato E qui ci hanno ammazzati a vicenda questa volta Vai vai Non mollo finché lo scontro non è finito Cazzo Ma che cazzo è? Guarda che bucio di culo Ma gli altri dove cazzo stavano? Scusate abbiamo una a destra e una a sinistra Vabbè mi sa che è persa malamente Perché Dobbiamo riconquistarla assolutamente Dietro di te Eh dietro di te Sto cazzo Andate a fanculo Cioè questa è la zona da conquistare Io non ho più valida idea di dove siano gli altri giocatori Ah no stanno arrivando Cioè ci stanno ma non ci stanno Questa abbiamo persa malamente Proprio tanto malamente Io provo a fare il giro dall'altra parte Tanto Eh che cazzo Non rischiamo di perdere Abbiamo fatto una partita del cazzo Non so dove stanno gli altri Non sono ancora morto Guarda ce l'hai là davanti Che cazzo è? Spare Una pappa Baffanculo Dai ma che stronza d'ha Eh ma scusate se non ci buttiamo Gli altri stanno a cazzeggiare in giro Dai ma che squadra del cazzo Non lo so Non lo so Eh tempo supplementare ma Eh meno male Non mi fate inculare Guarda che bucio di culo Ma ci stava la finestrella del cazzo di lato Ma vaffanculo Cazzo Mica l'avevo vista sta porca di merda L'erba cattiva non muore mai Ci facciamo fregare Non ci facciamo fregheca là Dai cazzo buttatevi dove Cristo state Mannaggia la puttana di Eva Non lo so Non lo so Eravamo partiti alla grande Poi È andato tutto a puttane Va bene comunque Io a questo punto direi che ci possiamo anche salutare qui Un'altra partita non ci esce Se no esce troppo lungo il video Eh ragazzi voi come sempre commentate Fatemi sapere la vostra Vabbè ci siamo riorganizzati un pochino Per capire Un po' come finanziava la La situazione Vabbè all'inizio avevamo giocato anche meglio Tra l'altro Ma perché poi ti fanno incazzare Quando vedi che non si buttano Certo non è che ti buttano proprio alla cieca Ma Cristian Un minimo di Di lancio nel mischione ci sta Eh vabbè dai ci vediamo al prossimo episodio Con Overwatch Mi raccomando come sempre commentate Come detto seguitemi sulla pagina Facebook E sul secondo canale Ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti da Quel taleale